Colazione dimagrante detox quinoa e cocco con mela grattugiata. Ciao amici, una buona colazione può cambiare la giornata, è vero? Eccone una gustosa e in più bruciagrassi e detox. Se piace anche a voi mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Oggi usiamo la quinoa in versione dolce in una ricetta dimagrante detox con cannella e miele antiossidanti e bruciagrassi. Ecco come si prepara. Quinoa e cocco con mela. Ricetta vegana per due persone. 200 g di quinoa, 600 ml di latte di cocco non zuccherato, 2 mele dolci, 50 g di noci pecan, 2 cucchiaini di miele, un cucchiaino di cannella in polvere e un pizzico di sale. Tempo di preparazione circa 30 minuti. 1. Preparare la quinoa. Mettete la quinoa in uno scolapasta e lavatela sotto l'acqua fredda fino a quando l'acqua risulterà limpida. 2. Cottura quinoa. Fate bollire il latte di cocco in una pentola, unite la quinoa scolata e il sale, poi mescolate e portate a ebollizione. Abbassate la fiamma e fate cuocere il tutto coperto per circa 15 minuti. 3. Grattugiare le mele. Nel frattempo lavate e sbucciate le mele, togliete il torso e grattugiatele. 4. Noci pecan. Tostate le noci pecan in una padella, fatele dorare, poi toglietele dalla padella. 5. Mescolate tutto, unite mele grattugiate, quinoa e cannella, togliete dal fuoco e fate riposare per 10 minuti. Al momento di servire guarnite con le noci pecan e addolcite col miele. Tenete in frigo fino al momento di servire e poi gustatevi la colazione di quinoa e cocco. Proprietà degli ingredienti principali, la quinoa è senza glutine, è proteica, è antiossidante e protegge il sistema circolatorio, è ricca di fibre e minerali. Il cocco è altamente nutriente, ricco di fibre, vitamine e minerali, aiuta a bruciare il grasso addominale e riduce la fame nervosa. La mela è un frutto antiossidante detox, è idratante e saziante, favorisce il dimagrimento, lo dicono studi scientifici. Per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un clic, così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Mangia consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ciao!